Salve a tutti e benvenuti all'ennesimo, cioè il quarto, episodio di World of Warcraft Gameplay con Stefan1687 e Gusti Bro Ciao a tutti Finalmente siamo riusciti a, diciamo, fare la registrazione dell'audio anche di Skype, così Beh, speriamo Dovrebbe, cioè almeno riusciamo a parlare in due facce più veloce Allora Cosa avevamo in servo per oggi? Beh, andavamo a Stormwind, giusto? Sì Ok, andiamo Un attimo, ok Ora possiamo Aspetta, aspetta, che io non c'ho più spazio Che palle E vai a vendere Questi li butto Anzi, no, potrei venderli Vabbè, la tolgo dopo Iniziamo ad andare Ah, quindi tu però fai il, il, come si chiama? Il, ehm, fabbro Leggi, leggi un po' nella chat Oh mamma mia Quindi scappiamo Per favore, ma tanto noi non siamo col pvp attivo, quindi Ma è vero Eh Ehm Chissà dov'è Bisandola No, c'è pare dietro Eh Se ci trova però potrebbe eseguire qualche attacco speciale Qualche cazzata Sì, qualche minchiata varia Bu Adesso possiamo fare episodi anche più lunghi di, cioè Facciamo un episodio che potrebbe al massimo durare mezz'ora, dai Ma ora puoi mettere su YouTube video più grandi di 15 minuti? Di 15, sì, sì, sì Bene O almeno raggiungendo i 20 mi ha detto Ora puoi mettere video più lunghi di 20 minuti di 15 minuti Ecco dove stavano Guarda quanti Oh mamma Andiamocene Ti sto un po' seguendo Facord Te l'ho circondato, io me ne vado Gli ho detto faccord, che cazzo Allora Sì, però non ti esce Beh, intanto Ecco le guardie, guarda Vediamo un attimo le guardie che Eh no, le uccidono Quelle guardie fanno schifo Sono morte Fan culo Vabbè, vuoi mettere una guardia a livello 75 contro il 300 Ah, io ci metto anche una guardia a livello 80 Dove? Ci metterei Dove? Non c'è Eh Però sai, con i server questi qua si possono mettere i comandi Tutto quanto E' un casino Io ci ho provato Ti ricordi quando ci avevamo connessi? Ma non ci doveva essere Ah eccolo E' morto l'altro Il cavaliere Il poverello Oh che bello Incredibile E' morto Bene Allora Oh mamma mia Ma qui hanno fatto La distruzione di massa Come possiamo andare avanti se Tutti quanti sono morti Ah beh, no, no, no Qua dentro nessuno E' tornata la vita C'è un fantasma Cosa? E' quello là E' della Gilda E' per la Gilda Allora iniziamo col finire la prima missione che è qua dentro Ehi Beh, calmo, relax Relaxati Allora è qua Prendi la cosa che vale di più se non c'è niente di utile No, sono utili quei colpi I bellissimi I explosivi Sì, in effetti I can't carry Trade Ti do due cose Oh, che è successo? Eh, eh Buon Trade Ok, tieniteli un attimo soltanto così Spazio Le sei già messi Ok, me li puoi ridare adesso Ma no, grazie Anzi, tieniti Tanto io ne ho altri 60 No, scusa, 30 30 Quindi fai il fabbro? Sì Ok, allora ti devo dare un oggetto Bella Può esserti utile Eh, io devo andare a fare l'ingegnere Quindi ora ci dividiamo un attimo E andiamo a prendere la professione al massimo Così poi dopo possiamo iniziare a fare i lavori Ah, aspetta, c'è una questa, è vero Dove? Qua Dove sono io qua? Con tutto il cuore Ecco Certo Qua Dove sei te? Torno indietro Eh, che sono andato dal weapon master Dove sei cavolo? Dove sei cavolo? Sono davanti alla cosa dove abbiamo risolto la quest Dobbiamo prendere, ce n'è un'altra qua Molto semplice però È tutto gallino Eh, livello basso però almeno qua te la raddoppia L'hai presa, questo qua si è dovuto sopra Presa Perfetto È qua dietro, alla banca Ho aggiunto Aspetta, vediamo un po' Eh, poi c'è una, sì, infatti dietro alla cosa Dietro quell'edificio e dall'altra parte Ah, sì Allora aspetta un attimo Prima finiamo ancora le quest, dai E dall'altra parte Questa quest l'avrò fatta almeno 3 o 4 volte Con Qualche account diverso Lag Prima con un altro personaggio Mi sono infilato sotto la città Eh, come hai fatto? C'è un errore, poi te lo mostro Non è così complicato, però è Una minchiaata Utile Andiamo qualunque a questo Niente un po' di forza Niente un po' di forza Niente un po' di forza Scusa, ma è più interessante Ora mi ubriaco Ah, giusto Gonario è l'imbragone Eh, sono ubriaco Beh, sono tutti dieci ora Non ci vedo ancora Andiamo Dov'è che bisogna andare a risolverla? Oh, dall'altra parte Della vecchia città Bisogna andare a destra Eh, dove dobbiamo andare Per il minatore Ah, vero? Tu che hai detto, minatore e ingegnere? Sì, aspetta Devo un attimo cercare Ancora una guardia Così gliela chiedo Salute Grazie a tutti